Chiedo scusa, principessa, posso avere un brand da Forvaggio, per favore? Coraggio, amici miei! È giunto il momento di convincere la rossa Rossella a non prendere tutti gli oggetti rossi presenti nel mondo. Qui è il comandante dell'aereo che vi parla. Siete tutti pronti a partire? Sì, pronti, signor comandante!